Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili è a causa di un veicolo in fiamme, un chilometro di coda in direzione Firenze, tra il video per la A12 e Vicarello. Per lavori è chiusa l'uscita di Montelupo Fiorentino, provenendo da Firenze. Ricordiamo che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza, con restringimenti, percorsi alternativi sulla Provinciale 12 o per viaggi più lunghi sulla A11. Tutte le info sui nostri canali social. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in Pruneta. I treni, ricordiamo che fino al 2 settembre per lavori di potenziamento, la linea Bologna-Prato è interrotta tra Prato e Pianoro. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!